Il Villa riceve l'Angolana per una partita a suo modo cruciale nei bassi fondi della classifica dell'eccellenza. Gli uomini di Vitale sono ultimi e devono assolutamente cancellare il pesante 5 a 1 subito ad Avezzano, mentre la squadra di Rachini vuole saccare in modo convinto le posizioni che portano agli spareggi salvezza. La pressione è tutta di marca nerazzurra in avvio, ma l'Angolana riesce a costruire esclusivamente da calcio piazzato con le battute di Farias. A sorpresa a passare il Villa al ventiquattresimo del primo tempo, su un tiro dalla distanza che sorprende il portiere ospite Puddu. Sulla ribattuta manda in porta l'attaccante Gian Pietro, ma il signor di Berardino di Teramo alza la sua bandierina e ne annulla tutto per offside. L'Angolana sul ribaltamento di fronte si rende pericolosissima con Miani, che prova a girare al volo un cross proveniente dalla fascia sinistra. Palla che finisce però alta sulla traversa, difesa da falso. L'estremo di casa deve fare gli straordinari due minuti dopo, su una grandissima conclusione di Casati. Il portiere del Villa infatti vola a deviare in angolo. Il pressing ospite continua e proprio sugli sviluppi del corner Miani prova a battere falso dopo un controllo approssimativo. Ancora una volta il portiere di casa è straordinario e si resta sullo 0-0. Il calcio è però davvero uno sport spietato e sul primo errore di giornata il numero uno del Villa condanna i suoi con un autorete seguente al pallone ben messo in mezzo da Casati in allungo. L'Angolana riesce dunque a passare in vantaggio al 31esimo del primo tempo. Sul finire di primo tempo punizione di Casati vicinissima all'incrocio dei pali. La sfera termina però all'aria. Nella ripresa Mister Vitale prova a spostare gli equilibri in avvio ed inserisce Rossi e Liguori per Dincecco e Piccozzi. All'inizio del secondo tempo è ancora di marca angolana e serve l'ennesimo miracolo di falso su un pallone pericolosissimo messo in mezzo da Farindolini e deviato a due passi dalla linea di porta. Si resta dunque sullo 0-1. Al quarto d'ora conclusione alta di poco da fuori aria da parte di Buffetti e al ventesimo prova a farsi vedere anche il Villa sugli sviluppi di un calcio piazzato. L'ennesimo miracolo di giornata di falso è servito al ventiquattresimo quando sugli sviluppi di un contropiede nerazzurro deve allungarsi per respingere la conclusione a botta sicura di Farias. L'angolana riesce finalmente a chiudere la gara al ventisettesimo grazie ad un colpo di testa di Buffetti da due passi. Suo ottimo assist del solito Farias da calcio piazzato. Chiusura, Farias scarica ancora il destro e conclude dalla distanza. Ennesimo volo del portiere di casa ed il risultato resta sullo 0-2 fino al fischio finale del signor Haka che certifica una bella vittoria dell'angolana sul campo del Villa. Mister Vitale dopo la sconfitta del Villa per 0-2 contro l'angolana, mister portiere falso sugli scudi, più presenza ospite davanti alla porta. Che cosa non è andato oggi? Sapevamo che l'angolana è una squadra forte che non rispecchia per niente la classifica e oggi l'ha dimostrato. Peccato perché il primo gol è stato un piccolo infortunio però falso oggi si è dimostrato il portiere che vale e quello che abbiamo preso. Dobbiamo continuare a lavorare e cercare di portare a casa il prima possibile una vittoria che ormai manca da tanto tempo. Hai provato subito dopo l'intervallo di intervenire con un paio di cambi, siete intervenuti anche sul mercato, per il momento però manca ancora qualcosa davanti alla porta perché mancano i gol. Purtroppo sulla mole di gioco e le occasioni che abbiamo purtroppo il risultato è a zero anche oggi però i ragazzi non possono rimproverare nulla sul discorso dell'impegno, della benegazione e della proposta anche di gioco. Purtroppo ci manca qualcosina un po' per sfortuna, un po' per malizia, nel senso andare a prendere quella palla e calciarla con cattiveria. Con mister Paolo Rachini una bellissima vittoria dell'Angolana, squadra che ha giocato per tutti i 90 minuti, tantissime occasioni, sugli scudi il portiere dei padroni di casa falso, insomma mister una bella soddisfazione oggi. Sì, oggi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare contro una squadra che comunque è sotto però è una squadra comunque organizzata, però ripeto oggi la mia squadra si vedeva che è andata in campo per fare la sua partita dall'inizio alla fine. Al primo tempo penso che abbiamo avuto cinque palle e gol importanti, siamo riusciti a passare in vantaggio diciamo sull'unica azione forse un po' più fortuita, le altre tutte ben costruite, però sono partite che poi si possono complicare. Nel secondo tempo infatti poi ho visto che sono rientrati comunque con lo stesso figlio del primo tempo e alla fine il risultato è meritato, ripeto sono contento per loro perché venivamo da due sconfitte consecutive, quindi riportare tre punti da morale ti fa lavorare bene e ti fa preparare anche per le prossime partite in un certo modo. Forse a voler trovare il pelo nell'uovo un po' di cattiveria è mancata perché poteva finire insomma con un risultato molto più ampio per l'angolana. Quello sì, purtroppo ci sta succedendo spesso anche parecchie partite di quelle che abbiamo perso, purtroppo nei momenti topici sotto porta sbagliamo, però io diciamo che sull'errore tecnico dico poco ai giocatori, nel senso a me mi piace l'atteggiamento e non si deve sbagliare quello. Poi le partite, come dici tu, se non si fa gol dopo tutte quelle occasioni rischi di perderle, però ripeto oggi abbiamo concluso, abbiamo fatto due gol, ne potevamo fare di più, però l'importante è averle create tutte quelle occasioni, ripeto sono contento per una squadra che io alleno da tre mesi, qualche risultato ci è andato storto però dobbiamo essere fiduciosi per il futuro.